addirittura Donald Trump ha difeso a spadratta Angela Carini la donna, la pugilessa di quest'Olimpia di 2024 diventata ormai un'icona o meglio famosa per quanto riguarda lo scontro contro Imane Karif vi ricordo che Imane l'ha messa a tappeto KO e la stessa Angela Carini avrebbe deciso di ritirarsi dal mondo sportivo se non vado errato, uso il condizionale Trump in particolare avrebbe detto Angela Carini si è scontrata con un trans un bravo pugile uomo intanto vi ricordo che Imane ha la medaglia in tasca però faccio presente anche che Angela sembra che sia stata premiata con un premio come se avesse preso la medaglia d'oro quindi anche da questo punto di vista non mi sembra che se la stia passando male secondo la mia opinione vi ringrazio in primis per la visione in secondis per l'ascolto di questo video di oggi utente di Youtube mi raccomando iscrivetevi al canale e commentate una buona sera a voi